Per un italiano partecipare allo Star Game penso che sia qualcosa di sicuramente bello, di importante per me, sicuramente per l'Italia, per i miei tifosi, quindi sono contento, cercherò di far bene, sicuramente si tratta della convocazione per la gara del tiro da tre, quindi cercherò di fare il possibile per, insomma cercherò di dare il mio meglio, e spero di avere tanti tifosi che mi seguono e cercherò di fare il possibile anche per loro. Grazie a tutti!